E' amaro in casa Sampdoria il risveglio dopo il derby numero 100. Brucia, fa male, ma anche la stracittadina di ritorno se la porta a casa al Genua. Tra i torrioni di Marassi gremiti di gente, il derby per Gentino di sempre finisce 3-1. Milito fa tripletta e rendevano il momentaneo pari di Campagnaro, al primo centro d'Oriano in Serie A. Più bravi e fortunati i rosso-blu a concretizzare le palle gol capitate sui piedi del loro centroavanti. Più ingenui di imprecisi i blucerchiati, sterili a tu per tu con Rubinio. Sta tutto qui un derby deciso dagli episodi, che purtroppo non è servito per portare a casa punti pesanti per la gloria e per il morale. Già, il morale. A partire da domani la ripresa degli allenamenti a Bogliasco occorrerà voltare pagina. Sabato c'è la Regine, mercoledì prossimo una finale di Coppa Italia da giocarsi fino all'ultimo. Con in testa Roma e la Lazio bisogna ripartire, scordarsi di una doppia debaclastra cittadina che mancava da 44 anni e fare quadrato. Nella pancia del Ferraris Walter Mazzara è visibilmente amareggiato. Il tecnico blucerchiato analizza così una sconfitta immeritata, cercando di passare oltre e convinto nel guardare avanti. Sappiamo che queste partite qui, soprattutto, ma un po' tutte le partite vivono sugli episodi e gli episodi determinano l'incontro. Se si vuol dire sono stati più bravi di noi a far gol e noi no. Anche se per quello, all'inizio gara abbiamo avuto due palle gol subito con Cassano e Pazzini. Non l'abbiamo, e questo è un demerito nostro, non l'abbiamo concretizzato. Poi si è verificata una partita tutta di rincorsa. Come ha detto lei, l'avevamo recuperata a fine primo tempo. Avevamo la palla clamorosa per andare in vantaggio e probabilmente sarebbe stata un'altra partita. Poi, devo dire, abbiamo perso e bisogna stare a accettare la sconfitta. I tifosi mi dispiace tanto, proprio per i tifosi che ci tengono. Purtroppo è andata così, però anche loro l'hanno vista la partita, non è che qui è mancato l'impegno. Le partite vanno in modo, questo è l'anno in cui probabilmente nei derby è andata così e accettiamo. Il confronto e il campionato non mi va bene, perché il campionato io posso accettare il confronto con chi fa tre competizioni. Come abbiamo fatto noi fino alla fine, siamo arrivati in finale. Come accennato dal mister di San Vincenzo, l'infermeria si riempie nel post-derby. San Marco, Lucchini e Raggi Accardi sono usciti dalla contesa con qualche acciacco e saranno valutati domani al Mugnaini. Se le condizioni di Andrea e Pietro afflitti da crampi non destano troppe preoccupazioni, già nelle prossime ore saranno indispensabili accertamenti clinici sui problemi del centrocampista Comasco e del difensore Lodigiano. San Marco ha dovuto abbandonare la contesa all'odicesimo della ripresa per un risentimento muscolare alla coscia destra, mentre Lucchini, uscito tre minuti più tardi, ha subito un trauma distorsivo alla caviglia sinistra. Difficile ad oggi valutare tempi di recupero dei due, in vista della finale contro la Lazio, in programma tra nove giorni all'Olimpico di Roma. A proposito della trasferta nella capitale, ecco le indicazioni sui biglietti per la partita che nella mente e nei cuori di chi tiene le sorti della Sampdoria. Sarà la sfida più importante e prestigiosa della stagione, quella del prossimo 13 maggio contro la Lazio, quando aerei, pullman, auto e treni si riempiranno di tifosi blucerchiati per dare vita ad un esodo prevedibilmente ancora più massiccio rispetto a quello di due settimane fa a San Siro. Ai sostenitori del Doria presente all'Olimpico sono stati riservati settori curva distinti sud, al prezzo di 15 euro, tribuna Montemario laterale 60 euro ridotto 40, tribuna Montemario centrale centro euro ridotto 70. I biglietti saranno acquistabili a partire dalle ore 10 di mercoledì 6 maggio presso tutte le rivendite abilitate l'Isla Automatica, compresi il Sampdoria Point e la Federal Clubs, ad esclusione del punto vendita situato a Roma. Sarà possibile inoltre acquistare i tagliandi via internet collegandosi al sito www.listicket.it o solo per la tribuna Montemario attraverso il call center al numero 892 982. Nel frattempo uno dei tre treni speciali organizzati dai supporti a Sampdoria è andato esaurito. Si tratta del convoglio degli ultrastito Cucchiaroni, sold out già da due giorni. Gli interessati a veggiare in treno verso Roma e ritorno possono comunque rivolgersi ai fedelissimi 3287531460 alla Federal Clubs 018311557, ai San Fruttuoso 3484008358 o ai Fieri Fossato 348 0573437. Chi volesse segnalare o promuovere viaggi e iniziative per la finale è pregato di contattare l'area comunicazione della società. Telefono 010 5316711 mail areacomunicazione at samdoria.it Per finire il torneo Ravano Erg 2009. Domani è previsto il gran finale della 25esima edizione del trofeo e come tradizione la Samp al gran completo farà visita al Pallasport per salutare e premiare i ragazzi partecipanti. Sarà un pomeriggio all'insegna dello sport, quello che a partire dalle ore 13 avrà inizio alla Fiera di Genova con le finali terzo o quarto posto di tutte le discipline per concludersi con le finalissime. Rugby, volley, basket, calcio femminile e calcio maschile si prenderanno per l'ultima volta alla scena della manifestazione e chiuderanno in bellezza l'ancora una volta riuscitissima Kermes Blucerchiata.